Sbriciolata alla Nutella, un dolce facilissimo che tutti amano. Preparare le mandorle pelate tagliate a pezzetti. Sversare in una ciotola le polveri, quindi farina, zucchero e lievito. Aggiungere la margarina vegetale Omega 3. E mia madre vi spiega il motivo. Ma perché non usiamo il burro? Perché l'ho fatta sempre con la vallenea. Aggiungere un uovo intero. E lavorare il composto con le mani fino ad ottenere delle briciole. Versare poco più della metà di briciole all'interno di uno stampo rivestito di carta forno. Aggiungere la Nutella circa 5-600 grammi. Consigliamo di sciogliere la Nutella a bagnomaria. Per distribuire bene la Nutella vi consigliamo di partire dal centro e tirare verso l'esterno. Ricoprire con la restante parte di briciole e aggiungere anche dei pezzettini di mandorle pelate. Le dosi che vi ho indicato sono per uno stampo grande di almeno 26-27 cm. In forno preriscaldato statico a 180 gradi per almeno 35 minuti. Lascia raffreddare e aggiungere lo zucchero a velo. Trovate la ricetta, consigli e varianti all'interno del mio blog Benessere e Gusto. Grazie. Grazie. Grazie.